Buongiorno, sono il dottor Tammaro Rosario, lavoro presso l'unità operativa di urologia di Empoli. Sono molto grato, dottor Antonini, per questo corso perché mi ha aperto una prospettiva nuova, visto che ho già un'esperienza nell'accesso penoscrotale e questo veramente mi ha fatto capire che con questa nuova tecnica si possono abbreviare i tempi e soprattutto utilizzare anche meno materiale.